Cari figli, tenetelo a mente, perché vi dico, l'amore trionferà. So che molti di voi stanno perdendo la speranza perché vedono attorno a sé sofferenza, dolore, gelosia e invidia, ma io sono vostra madre. Sono nel regno, ma anche qui con voi. Mio figlio mi manda nuovamente affinché vi aiuti, perciò non perdete la speranza, ma seguitemi, perché il trionfo del mio cuore è nel nome di Dio. Il mio amato figlio pensa a voi, come ha sempre fatto. Credetegli e vivetelo, egli è la vita del mondo. Figli miei, vivere mio figlio vuol dire vivere il Vangelo. Non è facile. Comporta amore, perdono e sacrificio. Questo vi purifica e apre il regno. Una preghiera sincera, che non è solo parola, ma preghiera pronunciata dal cuore, vi aiuterà. Così pure il digiuno, poiché esso comporta ulteriore amore, perdono e sacrificio. Perciò non perdete la speranza, ma seguitemi. Vi chiedo nuovamente di pregare per i vostri pastori, affinché guardino sempre a mio figlio, che è stato il primo pastore del mondo e la cui famiglia era il mondo intero. Vi ringrazio.